Basta un motivo per confermarsi i campioni, però lo sapete che il tempo passa, passano le ore, il tempo passa e se passate anche il titolo e loro lo recuperano, anche 5 secondi verranno sottratti, quindi attenzione ne avete 13. Peppe, tu solo puoi recuperare la situazione, in realtà loro sono qui solo grazie a te, pure. Sì, è vero. È vero questo? Sì, l'ha raccontato perché, sì. Sì? Sì. Bosseca! Riccardo Fogli, storie di tutti i giorni. E allora, con questa risposta, che non era scontata, il team Ivesicchi mi conferma! Sì! E i campioni tornano! Sì! Bravissimi! Grazie, grazie! Bravissimi!